Mi sono sparato, stai scherzando, mi sono puntato la pistola al dito e bam, rimandato a casa. Per ogni dito che ti amputi, dieci uomini muoiono perché tu non eri là a difenderli. Le battaglie si perdono, il terreno viene perso, il terreno che abbiamo conquistato con il sangue e il sacrificio, il terreno per il quale sono morti i vostri fratelli e voi dovete essere tutti qui a giocare a carte. Caporale, adesso basta. La vostra vita non vi appartiene. Caporale, questo non posso tollerarlo, ti sei rimesso e puoi camminare, ti dimetto, dovrai andar via domani mattina. Sì, signore. Non è possibile, non ci rimane più molto tempo, è rischioso, chi di voi riesce avrà la croce di fede. Sì, signore. Andate con Dio. Sì, caporale. Niente, signore. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, non ci rimane più molto tempo, è rischioso. Mi ha rischiato la mia vita. Tutti noi rischiamo la vita ogni giorno. Mi ha dato la sua parola, tenente. Credimi, se dipendesse da me io non avrei... L'ho provenduto, però. Chiunque si sarebbe messo a rendere. Che cosa vuoi dire con questo? Sono sempre stato dalla vostra parte. Quando tutti dicevano di quelli non ti puoi finire, portavo lei ad esempio, signore. Respirate profondamente, ragazzi. Si può fare di sentire il profumo francese. E aspettate che arriviamo a Parigi. Aspettati! Signore. Buonasera, ragazzi. Non puoi perdervi che dovrete essere pronti per domattina. Sono stati destinati al fronte orientale. Signore, siamo solo a 50 chilometri da Parigi. Penseranno che ci stiamo ritirando. Questi sono gli ordini del generale Kindenburg, caporale. Quello è il tuo premio. Ora va a avvertire gli uomini in prima linea. Si, signore. Non è questo il modo di fare la guerra. Caspo starda! Mettetevi le maschere! Caspo starda! Andiamo via! Non sei cieco, caporale. Il gas non può accecare. Irrita gli occhi, fa gonfiare le palpebre. Ma una volta tolte le pende, vedrai bene come prima. Quanto ci vorrà ancora per tornare... per tornare al fronte? Non dire così. Pensa al futuro. Hai una moglie? Una fidanzata? Non ho tempo. Devo tornare indietro! Devo tornare subito al fronte. A combattere! A combattere! Un dispaccio, dottore. Combattere! Signori, posso avere la vostra attenzione? Ho un annuncio da fare molto importante. Nella giornata di oggi l'alto comando dell'esercito ha consentito a negoziare i termini della resa. La guerra è finita. No! Ora siamo alla merce dei vincitori. Sto zitto! Preghiamo che siano generosi. No! Non è la fine. È il principio. Nella giornata di oggi l'alto comando dell'esercito. Non è la fine. Non è la fine. Non è la fine. Grazie a tutti.